si ho visto, ho visto ho visto, ho visto era tirata qui ho visto quello con il stampo di stanza forte quello tutto, tutto il stampo questo è il confettivo ah, questo è il tuo ma ho visto il confettivo trappato da sopra ho visto il calcio di gioco op ha preso la prima questa è la montanaro non è la prima la prima è il senso un senso è il senso un senso anche a lui dai Grazie. 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 se questa è cosa che tu hai detto però non senti la domanda, la senti, ti dà mi sembra ingresso un po' al livello non a materiali qua leggero si, 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 si si, 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 si si, si, si si, 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 si Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.